Pronti per vedere insieme i risultati del weekend calcistico nei campionati della nostra zona? Partiamo dalla Serie D, la seconda giornata del girone di ritorno. Orginatese-Ciserano 0-0, Scanzorosciate-Como 0-2, Virtus-Bergamo-Legnago-Salus 2-1, Caronnese-Mantova 1-2, Sondrio-Pontisola 1-1, Villa Franca-Veronese-Prosesto 0-1, Darfo-Buario-Rezzato 1-2, Ambrosiana-Villa-Dalmè 1-0, Caravaggio-Seregno 0-2. Il Sondrio si trova a 25 punti, più o meno metà classifica. Ricominciato anche il campionato di promozione, prima giornata del girone di ritorno, Lissone-Alta-Brianza-Tavernerio 2-2, Menaggio-Barzago 2-2, Casati-Arcore-Basiano-Masate 1-0, Concorezzese-Biessono 4-1, Speranza-Grate-Brianza-Cernus-Comerate 2-0, Colico-Derviese-Dipo-Vimercatese 0-1, Visnova-Giussano-Luciano-Manara 0-1, Aurora-Calcio-Viberonchese 0-0. La Colico-Derviese si trova a 24 punti. Prima giornata di ritorno anche per la prima categoria, Olimpia-Grenta-Albiatese 4-4, Ars-Rovagnate-Arcadia-Dolzago 3-1, Grosio-Berbenno 2-1, Giovanile-Canzese-Calolzio-Corte 1-2, Besana-Fortitudo-Chiavennese 2-3, Dubino-Cosio-Valtellino 0-1, Vedugio-Costa-Masnaga 1-0, Missaglia-Maresso-Olimpic-Morbenio 1-0. In classifica, prima posizione a pari merito con 31 punti per Arcadia-Dolzago e Berbenno, 30-Olimpic-Morbenio, 28-Chiavennese, 27-Vedugio-Olimpia-Grenta, 25-Giovanile-Canzese, 24-Missaglia-Maresso, 23-Cosio-Valtellino e Arsero-Vagnate, 21-Costa-Masnaga, 14-Grosio e Albiatese, 12 punti Dubino e Carolfio-Corte, 11 punti per Besana-Fortitudo.